Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi nuova combo labbra. Inizio con la matita di NYX, la Line Loud, nella colorazione Moving Up. Contorno le mie labbra con questa matita che è molto scrivente e facilmente sfumabile. Poi applico il nuovo rossetto, effetto lucido e bagnato, vedete, di Shiglem, nella colorazione Rule Breitard. Questo rosa molto delicato che a me sta piacendo tantissimo. Vedete? Bello l'effetto che fa, naturale. Bene, io vi saluto e vi aspetto al mio prossimo video. Ciao!